Si ha tirato delle bozze in questi giorni che ci ha fatto stare col capo sospeso, eh? Sì, due incidenti, una curatura posteriore della gomma che si è rotta sul rettilineo e adesso l'ultimo si è attaccato un tirante della sospensione posteriore, è sempre sul rettilineo, si è preso in muro a sinistra perché la macchina ha scartato tutta sulla sinistra.